Come Governo regionale naturalmente condividiamo e sosteniamo la protesta degli studenti per interventi migliorativi nella scuola siciliana. Siamo disponibili naturalmente ad aprire un tavolo permanente per ascoltare le proposte degli studenti, magari condividere con loro alcune iniziative da portare anche al Ministero e supportare tutte le iniziatiche che possano servire per il miglioramento della scuola siciliana. Un impegno a breve scadenza del Governo regionale rispetto a queste problematiche? Un impegno sicuramente è richiedere al Ministero maggiori finanziamenti per la scuola, soprattutto per l'edilizia scolastica. In Sicilia ci sono molte scuole che hanno difficoltà strutturali, ancora servono risorse per interventi per la messa in sicurezza di alcuni edifici sia delle scuole primarie che secondarie, quindi servono risorse da parte del Ministero. Grazie a tutti!